bella raga qui da Anifla e FANQUILO 400 siamo arrivati a 400 iscritti e questo è un video di ringraziamento e visto che siamo arrivati a 400 vi volevo chiedere come vi posso ringraziare perchè non avevo mai pensato di arrivare a questo numero di iscritti e adesso farò sempre la mia scritta scrausetta qui come faccio 4? mi sarà una picca una picca una picca una picca e si praticamente vi volevo chiedere come vi potevo ringraziare perchè non avrei mai pensato di arrivare a 400 e niente cioè vi ringrazio tutti uno ad uno adesso non vi sto a dire tutti i nomi perchè non sono pazzo sembra un 4 ok questo è il mio 4 e praticamente sì vi volevo ringraziare e vi volevo chiedere magari che cosa volete che faccio per i 400 iscritti non lo so qualche video speciale o boh dai cazzo sali sopra sta roba e niente cioè vi volevo dire solo questo mentre scrivevo la mia scrittina aspetta aspetta cosi perchè si perchè lo so che ai 300 non ho neanche festeggiato molto perchè erano successe delle cose brutte quel tempo e quindi ho festeggiato per i 300 però non ho fatto la scritta da nessuna parte quindi non c'è quindi ho voluto tornare a fare quella dei 400 aspetta in oro non si vede un cazzo aspetta e niente volevo che volevo solo chiedervi questo così almeno so qualcosa volete per per i 400 iscritti perchè cioè vi voglio ringraziare per come mi supportate per aver fatto diventare il mio canale così grande perchè per me 400 è già sono già tanti iscritti e niente con questo vi saluto ditemi nei commenti che cosa vorreste vedere e niente con questo vi saluto bella raga qui come cazzo leggete Danifra